Ciao a tutti, vediamo in questo video gli uomini da evitare in amore. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo l'appuntamento di Milano con il mio seminario Full Immersion 9.30.19, domenica 1 marzo. Il tema è autostima e seduzione in amore al lavoro, riferimento 333 15 11 703. E ti ricordo l'appuntamento di Torino venerdì 6 marzo, ore 20.45, con il mio seminario del titolo Elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti, riferimento sempre a 333 15 11 703. E ti ricordo che poi abbonate al canale Massimo Terramasco e abbonate al canale Felicità Benessere per avere il tuo percorso di crescita personale con me. E veniamo al tema, gli uomini da evitare in amore. Allora, gli uomini da evitare in amore quali sono? Sono quattro categorie, i narcisi, i megalomani, gli avari e i gelosi. I narcisi sono quelli che non ti ameranno mai, è la categoria più nefasta, quella che devi evitare assolutamente. Riconosci un narcisista dalle pratiche che utilizza, love bombing, poi isolamento, poi denigrazione squalifica, poi ghosting, sparizione, poi ritorno. Ne ho già parlato tanto, se hai a che fare con un narciso evitalo perché altrimenti la tua vita diventerà un inferno. Anche i megalomani sono da evitare, i megalomani sono quelli con legge ipertrofico, sono quelli che sono il migliore di tutti perché tu verrai considerata sempre una nullità, verrai considerata sempre una merda, verrai considerata sempre una persona non in grado di essere alla sua altezza. E siccome non ti meriti questo è importante che li mandi a cagare. Come lo stesso discorso vale per le persone avare, le persone avare, eccessivamente avare, il che non vuol dire non avere condivisione perché non sta scritto da nessuna parte che l'uomo deve dare, la donna deve prendere, ma ci deve essere uno scambio. Ci sono uomini avari che utilizzano tutti gli stratagemi possibili di questo mondo, soprattutto nell'ambito di una relazione, per sfruttarti in qualche modo. Insomma, gli avari poi possono essere anche avari affettivamente, possono anche essere avari in altro modo. Quindi la generosità d'animo comunque è molto importante in una relazione. E poi l'ultima categoria di persone da evitare sono le persone gelose e possessive che talvolta diventano anche moleste perché sono le persone gelose e possessive che poi fanno i femminicidi, che poi fanno stalking. Questi sono da evitare alla grande, che sono aggressivi. Quindi se una persona manifesta gelosia è esattamente il contrario dell'amore. La gelosia con l'amore non ha nulla a che fare, sono due cose diametralmente opposte. Per cui se hai a che fare con una persona gelosa, mollala! E anche tutti gli altri ovviamente. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale. Ti ricordo l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo, full immersion, dalle 9.30 alle 19.00, autostima e seduzione, in amore e al lavoro. E ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 6 marzo, ore 20.45, con il mio seminario del titolo Elimini blocchi emotivi per avere la felicità che meriti. Il riferimento è sempre al 333 1511 703. Ciao a tutti!